L'Istituto Comprensivo Santi Bivona di Menfi, guidato dalla dirigente scolastica Mariangela Croce e la divisione 4 Chivanis International Italia San Marino, insieme per realizzare il progetto denominato Metti la testa nella rete, un'iniziativa finalizzata all'uso consapevole delle tecnologie digitali da parte dei più giovani. Una delle attività previste dal progetto è la realizzazione da parte degli alunni delle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado di volantini divulgativi che saranno prodotti in stampa e distribuiti dai soci dei 5 club della divisione 4 Chivanis, Sciacca Terme, Menfi, Verdura Gebbia, Sciacca Montecroni e Santa Margherita Belice. Il materiale informativo sarà poi divulgato presso i luoghi di aggregazione e ritrovo dei giovani. All'interno dell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Santi Bivona questa mattina c'è stato un incontro tra la dirigente scolastica Mariangela Croce e il sindaco di Menfi Marilena Mauceri, il luogotenente governatore in carica Massimo Migliore, il luogotenente governatore confermato Giuseppe Mauceri, il presidente del Chivanis Club di Menfi Nino Moschitta, il presidente del Chivanis Club di Santa Margherita Belice Marta Bono e i rappresentanti dei club di Sciacca Terme, Verdura Gebbia e Sciacca Montecronio. La comunità scolastica si apre sempre più al dialogo con i diversi attori presenti sul territorio e nello specifico il Chivanis interviene a supporto concreto della scuola per rafforzare l'azione educativa nella formazione dei giovani e fornire un sostegno esterno e un ulteriore stimolo nella consapevolezza di come la scuola e i giovani siano un patrimonio da preservare e valorizzare. Grazie a tutti.